E' possibile ritornare dall'aldilà e rivivere una vita in un'altra vita? Quando la sua anima apparirà davanti a te, accoglila come una sorella, lasciati avvolgere da lei perché quell'anima conosce il mistero del mondo. La sua anima apparirà davanti a te, accoglila come una sorella, lasciati avvolgere da lei. La sua anima apparirà davanti a te, accoglila come una sorella, lasciati avvolgere da lei. Grazie. 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 Grazie.